Guardando ora il risultato finale della mia parete rocciosa, devo dire che essa disturba particolarmente quest'area dell'immagine, coprendo la finestra. Per modificarla, posso procedere come sempre in svariati modi. Posso riattivare l'Object Paint per dipingere sugli oggetti e spostarli nello spazio. Eventualmente posso anche procedere con una selezione di questi poligoni. Andiamo a visualizzarli dalla camera. Essi potrebbero essere definiti da questo vertice, colpevole, diciamo così. Potremmo abilitare un Soft Selection e aumentare l'effetto di caduta della nostra selezione morbida. Più l'effetto di caduta è morbido e più il risultato sarà piacevole. Andiamo a spostare il tutto verso l'interno. Vi consiglio sempre di lavorare dalla posizione della camera, poiché tramite essa possiamo capire le zone di disturbo. In questo modo stiamo eseguendo un fine tuning del nostro elemento. Torniamo a osservarlo. Direi che il risultato è buono. Possiamo riapplicare il modificatore Turbo Smooth per rendere la superficie ancora più levigata. Ovviamente il mio intento è solo di mostrarvi cosa succede, dato che questa procedura potremmo effettuarla soltanto nelle fasi di rendering. Prima del Turbo Smooth potremo applicare un modificatore Relax, il quale tende a far rilassare, appunto e quindi rendere più conforme, la topologia dei vari poligoni. Al di là del Turbo Smooth che è applicato, andiamo a vedere come è possibile utilizzare un valore elevato, in modo da constatare la presenza e l'assenza del modificatore Relax. Questo modificatore va a rendere la topologia della nostra superficie più morbida. In questo caso abbiamo lavorato per ottenere una superficie deformata, ma con questo non voglio dire che sia inutile utilizzarlo. Solamente un valore troppo alto non gioverebbe al risultato. Ricordiamoci poi che applicheremo il Turbo Smooth, il quale renderà il tutto ancora più tondeggiante. Direi che questa roccia è perfettamente soddisfacente. Ovviamente nella mia testa è già applicata con i materiali, la fase successiva sarà quella di procedere al rendering, io già me l'immagino finita.